Piacere immediatamente, ovviamente per piacere alle varie persone con le quali interagisci. Piacere è importante per tutti gli ambiti della nostra vita, anche per le relazioni sentimentali effettive, insomma per tutti gli ambiti della nostra vita. Quali sono dieci abitudini per creare una piacevole impressione? Allora, nel mondo frenetico di oggi, possiamo dire, dove le interazioni sociali sono spesso veloci e superficiali, è importante comunque saper creare un'impressione piacevole, saper piacere immediatamente. Non si tratta di manipolazione o falsità, ma si tratta di sviluppare delle abitudini che favoriscano delle relazioni positive. cerchiamo di capire. Allora, la prima è mostrarti, tra virgolette, poi vedremo anche delle strategie immediate, salutiamo anche Green Apple e Betty Cottage, vedremo anche delle strategie immediate della PNL e dalla comunicazione ipnotica. Green Apple from London, Betty Cottage from Venezia, Venice. Quindi cerchiamo, quindi possiamo dire che è mostrare, la prima cosa è mostrare un interesse, curiosità verso l'altra persona. È molto importante questo focalizzarti su ciò che gli altri dicono, ascoltare, è molto importante, e fare domande allineate. Le persone si sentiranno valorizzate, apprezzate, diciamo, quando si accorgono che sei interessata a quello che hanno da dire. D'altra parte, se noti che sono persone noiose, che alla fine non ti interessano, levetelo dai coglioni immediatamente, perché altrimenti corresti il rischio di tenerti una cozza sullo scoglio, di avere una persona, a meno che proprio non ti serve. Salutiamo anche la nostra Margachona Stella Marina, perché altrimenti dovresti tenerti lo scoglio, diciamo, una patella sullo scoglio che invece devi levarti dei coglioni. Quindi se noti che la persona non ti interessa, a meno che non devi vendergli l'enciclopedia, visto che abbiamo Green Apple, potresti vendergli l'enciclopedia britannica scritta in inglese, e allora magari, insomma, se il tuo obiettivo è vendergli l'enciclopedia britannica, che te ne fotte, magari a un catramista che non parla neanche tanto bene l'italiano, se crei un rapporto di rapport positivo potresti vendergli l'enciclopedia britannica scritta in inglese, ma... oppure, diciamo, sempre scritta in inglese potresti vendergli tutto Shakespeare, ad esempio, che già non lo capiscono gli inglesi, figuriamoci i catramisti italiani, ma comunque non importa. Cerchiamo, cerchiamo quindi di andare avanti e quindi questa è la prima cosa. La seconda, mantieni sempre un atteggiamento positivo, un atteggiamento positivo è contagioso, crea un'atmosfera piacevole, devi essere ottimista, cerca il lato positivo delle situazioni, diffondi energia positiva intorno a te. Le persone si sentiranno attratte dalla tua energia e saranno più propense, diciamo, a creare un rapporto, un rapporto empatico positivo con te e questo è molto importante. E poi, se vuoi piacere comunque una persona, devi dimostrare anche a livello non verbale degli atteggiamenti piacevoli, questo è un punto fondamentale perché questo produce sicuramente coinvolgimento. Salutiamo anche Roxy Rosa, spero che si veda e si senta bene perché quello che dice sta Malga Shona di Stella Marina che è sorda e cieca non conta niente. Quindi, detto questo, se si riesce a fare questo, diciamo, riuscirai a ottenere un po'. Essere aperti al dialogo significa essere disposto ad ascoltare. Anche opinioni diverse dalla propria evita, cara Malga Shona, di giudicare come fanno, evita di fare la pettegola, evita di fare la portinaia, evita di fare la portinaia e questo atteggiamento ovviamente favorisce un clima di apertura, ti consente di creare un'atmosfera, un clima molto importante. Salutiamo anche Kami. E poi bisogna dire che il sorriso, il sorriso è uno strumento potente per creare una connessione, una connessione potente, una connessione immediata con le persone, mostra un sorriso sincero perché donna ingrugnita, donna incarugnita, donna depressa, donna cessa, non lo so, beh comunque insomma bisogna essere sorridenti. Mostrare un sorriso, soprattutto un sorriso vero, non un sorriso vero perché ha seguito il mio corso sul canale Massimo Terramasco delle micro espressioni facciali. Salutiamo Tug, sa che cos'è un sorriso vero e quindi è fondamentale, fondamentale. Ovviamente per sorridere bisogna avere dei bei denti e quindi non tenerti denti marci, ma fate... Ecco perché poi questa è un'altra delle cose che non capiscono, come molte persone non spendono soldi, magari hanno i denti marci in bocca, ma le unghie da tigre dai denti a sciapola, no? Come ci sono persone che magari non vanno, non seguono dei corsi di formazione, diciamo, come il mio corso ad esempio da 9 euro sul canale Massimo Terramasco che è molto importante, vi permetterà di avere successo nella vita, nel lavoro, nel denaro, quindi andate sul canale Massimo Terramasco, fate l'abbonamento base e molte persone magari dicono, eh ma 9 euro, 9 euro, poi magari ne spendono 50 per andare a farsi le tigre dai denti a sciapola e le unghie da tigre dai denti a sciapola, che sono il canto del cigno della seduzione, oppure spendono i soldi per delle creme. Tra l'altro ho letto che le creme per il viso, tra l'altro, io non lo so se è vero o se non è vero, però ci sono alcune creme, ho letto un articolo che dicono che vanno a interferire con degli ormoni, perché hanno degli ormoni, quindi non è che fanno tutto questo, danno tutto questo benessere, insomma, eppure spendono soldi, le vecchie malgascione raggrinzite, che tanto la pelle resta sempre raggrinzita, in soldi per creme, magari non investono 9 euro nel mio corso, il seminario sul canale Massimo Terramasco, che potrebbe stravolgere in modo positivo la loro vita, che potrebbe portare gli amori, che potrebbe portare gli benessere, che potrebbe portare gli successo, e non lo fanno, non lo fanno, perché sono delle poveracce mentalmente, mentalmente. E quindi questo è un punto fondamentale, no? Poi bisogna creare un ancoraggio emozionale positivo della persona. Io questo lo faccio poco perché mi dimentico, però usa i nomi propri delle persone, un modo efficace per creare un senso di connessione personale, utilizzare il nome della persona con la quale sta interagendo. Le persone amano sentirsi riconosciute, notate, quindi prendi il tempo per memorizzare. Io devo dire che da questo punto di vista dovrei migliorare, perché mi dimentico, mi dimentico, mi dimentico, diciamo spesso i nomi delle persone, e quindi questo... però, però, però è un punto fondamentale, è un punto fondamentale che sarebbe, bisognerebbe ricordarsi il nome, perché dire il nome della persona è fondamentale. Quindi dobbiamo tenere presente che le persone amano sentirsi riconosciute, notate, quindi memorizza i nomi e poi ripetiti durante le conversazioni. A me, quando è capitato di ricordarmi un nome, lo ripetevo 50 volte per, diciamo, per non dimenticarlo, e quindi magari serve, no, serve. Bene, bene, quindi questo è un punto importante. Poi evita di giudicare gli altri, diciamo, giudicare è negativo, è una barriera immediata. Cerca di sospendere i giudizi, perché iniziare a giudicare da subito, se non hai rapport, se non hai di fatto da subito un rapporto empatico positivo, vuol dire che non riuscirai a raggiungere nessun risultato. Sei una catramista, sei una sciampista, e quindi evita assolutamente di andare a giudicare. Questo è un punto fondamentale. Ricordare i nomi credo che sia un'altra delle cose molto importanti. E poi, diciamo, dimostra disponibilità verso le persone. Soprattutto dimostra rispetto e cortesia, perché i rispetto e cortesia, anche da questo punto di vista logico e razionale, sono fondamentali per creare una buona prima impressione. Come dice dal proverbio, non c'è una seconda possibilità di fare una buona prima impressione. Bisogna, ad esempio, trattare sempre con gentilezza le persone. Le persone vanno trattate sempre con gentilezza. Usare un tono di voce gentile, come ad esempio faccio sempre io, uso sempre un tono di voce gentile per trattare bene le persone. Ma il gassone di una stella marina che non capisci niente, sei ignorante come una capra, non capisci una mazza, sei ignorante, sei una capra. Come vedete io utilizzo spesso una comunicazione gentile per, diciamo, creare quell'atmosfera pacifica tra le persone e soprattutto alle persone come, ad esempio, Stella Marina. Che è una capra! È una capra! Stella Marina! Vai a brucare l'erba! Vai a brucare l'erba! Che sei una caprona! Non è una capra, una caprona! Vai a brucare l'erba, vai! E quindi vedete che la comunicazione gentile è fondamentale per creare un rapporto empatico-positivo. Poi possiamo utilizzare, diciamo, anche delle strategie, possiamo anche utilizzare delle strategie legate alla PNL. La programmazione neurolinguistica, da questo punto di vista, è molto utile per ottenere dei risultati perché crea un rapporto, crea un rapporto empatico-positivo e diciamo che l'abbinamento tra PNL e Meet & Model, diciamo che funziona molto bene perché la PNL e il Meet & Model sono due approcci che possono essere utilizzati per influenzare, diciamo, positivamente gli altri, le persone, attraverso il linguaggio, attraverso la comunicazione non verbale e possono essere utilizzati, ad esempio, utilizzando un linguaggio positivo ed incisivo, cioè crea un'atmosfera accogliente e confortevole. Evita parole negative e usa un tono di voce confortevole. Ad esempio, anziché dire non ti preoccupare, potresti dire sono sicuro che insieme troveremo una soluzione e riusciremo a venire contemporaneamente a una soluzione. Quando tu potrai godere pienamente di questa esperienza, potrai aprirti e lasciare entrare, lasciarti penetrare totalmente da una nuova idea che entrerà delicatamente dentro di te e poi piano piano si ingrosserà sempre di più fino a chiudere totalmente ogni possibilità e potrai trovare questa situazione estremamente piacevole e godere, e godere insieme di questa nuova idea che possa, diciamo, lasciare un segno anche molto importante dentro di te. E questo, diciamo, è un po', come dire, un po' di comunicazione mista, ipnotica, Milton Erickson, eccetera. Diciamo che l'ipnosi linguistica, il Milton Model, è rappresentato da una serie di modelli, che poi spiego benissimo e in dettaglio sul canale, sul canale Massimo Terramasco, sul canale Massimo Terramasco, e quindi dovete abbonarvi al canale Massimo Terramasco. Sentite a scatti? Lo sentite a scatti? No. Sentite a scatti o lo sentite fluido, diciamo? Come lo sentite? Perché alle volte entra scatti e poi entra invece più fluido. Provate a riavviare perché adesso ho chiuso tutte le chat e dovrebbe, non ci dovrebbero più essere dei colpi, ma dovrebbe essere un linguaggio potente, fluido, che si muove avanti e indietro e dà dei benefici. Provate a sentire come lo sentite. Come lo sentite? Roxy Rosa, come lo senti tu normalmente? Come lo senti? Vedo che ci sono meno persone, quindi probabilmente non lo sentite bene. Vabbè, comunque... Ah, ora lo sentite bene. Bene, l'importante è che tu lo senti bene, fumaria, no fumaria, sumeria, perché se lo senti bene, diciamo che è molto più piacevole. E quindi, come stavo dicendo, l'ipnosi linguistica, cioè il middle model, è costituito da una serie, diciamo, di modelli linguistici utilizzati per comunicare, in modo seducente, persuasivo, e contiene tutta una serie di principi che, ripeto, spiego in dettaglio nel corso sul mio seminario, cioè nel seminario Massimo Taramasco, quindi abbonatevi, andate sul canale Massimo Taramasco, come potete anche abbonarvi a questo canale o fare una piccola donazione a questo canale. E poi, diciamo che si possono utilizzare metafore, domande suggestive, creazioni di suggestioni positive per creare una connessione profonda, no? Anche sul lavoro, ad esempio, potresti dire a una persona visiva, immagina come sarebbe meraviglioso se potessimo collaborare insieme per raggiungere i nostri obiettivi. E poi le tecniche della PNL servono, diciamo, anche per creare rapidamente un rapporto, cioè un rapporto empatico positivo con gli altri, sincronizzando, ad esempio, attraverso la tecnica del mirroring, del ricalco, il linguaggio del corpo, il tono della voce, la respirazione, con la persona con la quale sta interagendo. Mostra un vero interesse per le loro esperienze, i loro punti di vista, cerca di comprendere le loro emozioni, perché questo ti aiuterà a stabilire una connessione più profonda. Ovviamente non dimenticare la comunicazione non verbale. La comunicazione non verbale gioca di fatto un ruolo fondamentale nel, come dire, gestire nel piacere alle altre persone. Utilizza un linguaggio del corpo che possa trasmettere fiducia, apertura, mantieni l'high contact, il contatto visivo adeguato, sorride, abbiamo detto, in modo genuino. Devi avere le zampe di gallina, vabbè, che poi qua siete talmente anziane che le zampe di gallina ce le avete anche se non sorridete. Però, diciamo, è interessante avere le zampe di gallina. Per capire di cosa parla il mito model, poi dirò qualcosa, però dovete venire sul canale Massimo Terramasco e abbonarvi. Abbonarvi all'abbonamento base, perché tratteremo un mito model, un metamodello e tutte le strategie della comunicazione ipnotica persuasiva che vi sarà molto utile per venire, diciamo, in pieno a queste nuove conoscenze. Non fate i tirchi, abbonatevi, anziché andare a comprarvi delle creme che poi vi fanno venire anche magari qualche cosa di negativo, oppure le unghie da tigre delle denti a sciabola, o non so dove cazzo andate voi. Abbonatevi al canale che, con una cifra molto bassa, cioè, ma piuttosto potete disdire l'abbonamento a Netflix che tanto vi fa passare soltanto delle cose di merda, delle serie di merda che non valgono niente. E risparmiando ancora magari un euro o due rispetto a Netflix potete fare l'abbonamento base al canale Massimo Terramasco. Abbonamento base, così parteciperete ai seminari. E quindi, stavo dicendo, l'i-contact è molto importante. I segnali non verbali, diciamo, creano comunque un'atmosfera positiva, accogliente, piacevole, insomma. Molto importante è anche utilizzare un linguaggio del futuro per creare una visione positiva. Parla delle opportunità, dei sogni, delle aspirazioni, sempre in modo ottimistico, perché tanto la persona, il pessimismo, se lo trova da solo, no? Perché tu gli parli di un sogno, e se questa persona ha avuto un sogno infranto, come possiamo dire, svilupperà, insomma, questo sogno infranto e quindi non ci sarà, non avrà tante possibilità. E quindi queste sono tutte strategie che possono essere utili. D'altra parte, anche la flessibilità comunicativa è molto importante. Quindi usare il modello linguistico preferito dall'altra persona, visivo, uditivo, cenestesico, per creare un'esperienza comunicativa più coinvolgente. Quindi questo è molto importante. Ad esempio, si possono utilizzare metafore, che poi spiegherò sempre nel seminario. Le metafore sono potenti strumenti linguistici che possono creare immagini vivide nella mente delle persone. Puoi utilizzare le metafore per esprimere concetti complessi, in modo semplice, coinvolgente. Vuoi motivare una persona? Dì l'immagine di essere un albero, forte e ben eradicato, in grado di affrontare ogni sfida che la vita ti presenta. Ecco, questa semplice metafora in cui paragoni la persona, un albero forte e ben eradicato, riesce in qualche modo a, come dire, a creare subito un, diciamo, la persona si identifica in qualche modo, no? Le metafore hanno grandi possibilità. Quindi impara ad utilizzare le metafore. Poi utilizza le presupposizioni che sto spiegando o spiegherò, insomma, anzi spiegherò le presupposizioni proprio nel seminario che faccio sul canale Massimo Taramasco. Sono affermazioni che presuppongono la verità di qualcos'altro e utilizzando le presupposizioni puoi influenzare in modo subliminale, in modo sottile, la mente delle persone. Ad esempio potrei dire quando capirai potrai vedere come sarà facile. In realtà io sto sottointendendo, presupponendo che comunque capirai. Si tratta di capire quando. Quando usceremo assieme? Quando ci fidanzeremo? Vedrai come sarà bello. Eh, ti sto dicendo che il presupposto è che ci fidanzeremo. Poi dovremmo definire quando, ma questo è un punto fondamentale. Quindi l'utilizzo delle metafore, l'utilizzo delle presupposizioni, l'utilizzo dei modelli ipnotici di Milton Erikson, che spiego in dettaglio appunto nel seminario sul canale Massimo Teramasco, offrono una grossa opportunità. Sul canale Massimo Teramasco, seminario con abbonamento base, vi darà la possibilità di imparare a piacere proprio alla persona che vi interessa. E poi c'è un'altra cosa molto potente che adesso andremo a vedere, che potete utilizzare, diciamo, per lasciarvi penetrare, diciamo, da orgasmi, diciamo, profondi, che vi daranno un piacere molto intenso, che sono le domande suggestive. Utilizza le domande suggestive che possono guidare una persona verso una certa risposta, verso un certo atteggiamento. Puoi utilizzare, diciamo, delle domande aperte che inducono la riflessione e domande che presuppongono una risposta positiva. Ad esempio, potresti chiedere, potresti, ad esempio, chiedere a una persona, come possiamo dire, potresti chiedere a una persona un qualcosa del tipo cosa ti piacerebbe raggiungere nel prossimo anno che ti farebbe sentire estremamente soddisfatto o soddisfatti, insomma. Utilizzare poi le frasi ambigue, l'ambiguità. L'ambiguità, adesso non ne parlo, però la spiego sempre nel seminario, è molto potente. La vita è come un puzzle, ogni pezzo ha il suo posto, unico e quando si uniscono si crea un'attrazione meravigliosa. Questa è una frase che sto usando, che mi è venuta così, che è ambigua, non si capisce cosa vuol dire, però le persone tendono per questo meccanismo a proiettare. Quindi l'uso della comunicazione ipnotica può utilizzare, diciamo, può sedurre e conquistare piacere. Potrei dire, perché scegliere di concentrarsi sulle possibilità che non potrai raggiungere e invece cerca di aprirti a nuovi orizzonti. e questa è un'altra cosa. Insomma, l'utilizzo del mito model comunque richiede molta pratica, richiede la conoscenza, la conoscenza della teoria e insomma, se volete approfondire queste tematiche andate sul canale Massimo Terramasco e abbonatevi all'abbonamento base che vi consentirà di ottenere, di approfondire e di diventare padroni di queste strategie. Bene, nel frattempo mettete un like